Lei è una cosa che mi gira, è incredibile, ho fatto una cosa di tre secondi, sudo come la bestia, posso fare una tirata unica, mi piacerebbe fare una tirata unica dell'argomento, ha detto una cosa molto giusta Elio, il nostro saggio della montagna, ha detto che oggi chi non ha un tesoriere non è nessuno, ecco si è dimesso qua, e quindi posso fare la mia filata, ce l'ho? Ce l'ho quasi tutta? Secondo me è giusta, vale la pena, vale la pena parlare un po' del tesoriere della Lega, come lui non c'è nessuno, vado al volo, indagato il tesoriere della Lega, le ipotesi sono appropriazione in debita, truffa, riciclaggio e contatti con un clan della drangheta, che ai tempi era il curriculum minimo richiesto per allearsi col PDL, cioè questo era il minimo che ci voleva, poi ricapitolando, truffa, riciclaggio, appropriazione in debita, le ipotesi di reato per Belsito, ormai nella Lega si lamentano che gli stranieri vengono in Italia a rubargli i soldi da rubare, cioè questa fa il giro a me è molto bella, a me piace tanto ma non è piaciuto a nessuno, va benissimo, ci siamo, poi facciamo questa, andiamo avanti, mi piaceva, allora, poi, dopo la bufera che ha travolto il carroccio, Francesco Belsito si è dimesso e la Lega cambia tesoriere, e dice se volete sono libero io, ha dichiarato l'Usi, ma poverà, c'è tanto uno per l'altro, mi sembrava carino, poi, Belsito, è un'infilata, Belsito indagato da ben tre procure, pare che a Gemogno ci fossero più fondi neri che camicie verdi, pensi di questa, mi piace anche questa, e poi c'è una sul Trotta, una sul Trotta dice, il Trotta dice, non ho mai preso, però Trotta, boccheggiando è riuscito a parlare, e ha detto, non ho mai preso soldi dalla Lega, il vero problema però è che li prende tutti i mesi dalla regione, questa li prende, questa... Grazie.